Le novità sono tante, innanzitutto diventa un progetto percorso che è durato per un bel po', infatti il 26 avremo circa 500 bambini da 7 scuole salernitane che verranno a fare la parte conclusiva di questo percorso, cioè dei laboratori con le varie associazioni di Salerno e poi dal pomeriggio del 26 grandi narrazioni, fiabe, musica, ci saranno arti e narrazioni differenti che è il nostro tema ormai che ci accompagna da 5 anni Serata di chiusura speciale quest'anno a Salerno con un piacevole ritorno a casa in qualche modo Sì, serata di chiusura con i neri per caso e siamo veramente contenti di averli con noi, tra le altre cose c'è stato un lungo corteggiamento perché alcuni di loro sono proprio del quartiere dove si tiene la manifestazione quindi faranno un concerto in casa